Come è andata la partita non aspettavo cosa di più, perché giustamente nelle occasioni che abbiamo avuto mi ritrovavo sicuramente alla vittoria, però sinceramente sono molto orgogliosi per i ragazzi perché dopo una settimana, 10 giorni di allenamento oggi hanno fatto una grossa prestazione dal punto di vista soprattutto dell'atteggiamento. Noi siamo capiti sia il 7 di settembre, è normale che la condizione fisica è un po' calata, però ripeto l'atteggiamento è stato un po' positivo, davanti avevamo una squadra organizzata che ci avessi difficoltà, però sinceramente di fatti meritavamo la vittoria. Adesso c'è un partito da colpire nella lenda, dobbiamo mettere da parte, nel punto di vista l'atteggiamento deve essere orgogliosi, sappiamo, siamo consapevoli che c'è tanto da migliorare, però adesso pensiamo al Villa Mantronico, domenica sarà un'altra partita di Tosti. Un'altra parte di Tosti. Chiapasca! 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 Torri! Noi siamo intera, avvocato! Noi siamo intera, avvocato!